Si è svolta lunedì 18 aprile, presso il Palazzo Spinelli di Albanella, la presentazione del libro di Tori Capuozzo, vice direttore del TG5, Il segreto dei Marò. La vicenda ha inizio nel febbraio del 2012, quando, nell'oceano indiano, due pescatori indiani vengono uccisi. In quello stesso giorno, la Enrica Lexi, una petroliera italiana, viene fatta oggetto di un attacco pirata, respinto da militari in funzione di protezione. Dopo qualche ora, la petroliera italiana, su richiesta delle autorità indiane, inverte la rotta ed attracca a Kochi. Dopo qualche giorno, i fucilieri di Marina, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, vengono arrestati con l'accusa di aver ucciso i due pescatori indiani. Da questo momento inizia il cosiddetto caso dei due Marò, che l'autore del libro, Tori Capuozzo, ricostruisce con grande accuratezza. Una ricostruzione che mette in evidenza tutte le clamorose incongruenze e lacune dell'inchiesta delle autorità indiane, ma anche i tanti errori commessi e il poco decisionismo dei tre governi italiani che si sono succeduti dal 2012. L'incontro, cui ha partecipato un fulto interessato pubblico, è stato organizzato dall'Associazione Meridiani, che ha visto la partecipazione del sindaco di Albanella, Renato Iosca, e dei generali Sergio Cuofano e Giulio Carletti. La serata è stata moderata dal giornalista Peppe Iannicelli. Ai nostri microfoni l'autore del libro, Toni Capuozzo. Io racconto quello che è il frutto di una ricerca sui fatti. Ho cercato di andare ai fatti per sgomberare il terreno dalle ideologie, destra, sinistra, centro, sopra, sopra. No, guardiamo i fatti. Sono stati questi due marinai a uccidere i due pescatori? Secondo me no, e i fatti, per come li ho esaminati, li ho mostro. La prospettiva è di altri due anni di dibattito sul diritto internazionale della Corte Permanente dell'AIA e dunque solo dopo sei anni dal fatto questi due fuggieri di Marina avranno diritto a un processo. Io ho scritto un libro perché questo scandalo, per chiunque abbia a cuore la giustizia, il diritto, le garanzie che spettano ogni imputato, almeno non resti sotto silenzio.